Luigi Bonatti, professore di politica economica all'Università di Trento, Marco Cattaneo, presidente di CPI Private Equity e Stefano Silo Slabini, ricercatore dell'Enea. Io farei gli onori al padrone di casa, tra virgolette, partirei con Bonatti. Gli chiederei, insomma, partirei dal momento quando vi siete conosciuti con Fitussi e qual è stato poi il rapporto di Fitussi con Trento. Allora, lasciatemi iniziare. Vorrei esprimere proprio la mia grande tristezza di non averlo oggi qui con noi, perché questo sarebbe dovuto essere il panel che Jean-Paul aveva cercato di organizzare veramente con molta passione e proprio con grande impegno ci siamo fatti tante telefonate su come organizzare questo panel, chi invitare, che taglio dargli. L'idea era anche di cercare di creare un contraddittorio, un vero dibattito su un tema molto controverso che doveva essere la moneta fiscale. Quindi lui, oltre a cui presenti, voleva invitare Varoufakis, un personaggio per l'appunto molto controverso. E quindi questo spirito anche di creare un dibattito, un contraddittorio, dà proprio il segno di come Jean-Paul fosse tutto, meno che un economista dommatico. Quindi, insomma, dovrei essere qui a ricordarlo invece di averlo qui. Poi dovevamo anche avere Stiglitz qui con noi, proprio doveva discutere. Insomma, mi fa un po' di tristezza, ecco. Detto questo, io personalmente conosco Fituzzi da moltissimi anni, direi, dalla fine degli anni Ottanta, tramite il mio mentore, maestro e advisor. All'epoca io lavoravo alla mia dissertazione di PhD con Ned Phelps, per l'appunto, e insieme avevo appena scritto il libro che è stato ricordato sulla stagnazione e l'alta disoccupazione in Europa, che è il libro che ispirò la mia dissertazione di PhD. Quindi, poi ho avuto tante occasioni di vederlo sempre tramite Ned, vari incontri, mi ricordo appunto quando fu conferita la legione de Nera a Phelps, in varie altre occasioni. Ecco, e poi anche qui a Trento, quindi vorrei dire proprio due parole sul suo rapporto qui con noi e con l'università. Massimo Egidi già ha detto qualcosa su questo, quindi questo suo rapporto con noi risale alla seconda metà degli anni 90, quindi già un po' di anni fa, oltre che tramite Massimo, che all'epoca era il direttore del Dipartimento di Economia e aveva già una visione di quello che sarebbe avvenuto poi con molti anni dopo, cioè che la teoria economica e in generale il pensiero economico avrebbe, si sarebbe distanziato da quella che era l'ortodossia di quegli anni, erano gli anni della cosiddetta nuova macroeconomia classica, delle aspettative razionali, comunque di una certa egemonia, chiamiamolo di un certo pensiero unico, mainstream. e invece Massimo Egidi cercava altre visioni dell'economia che erano quelle che poi hanno preso piede alcuni anni dopo, che ora si può dire sembrano quasi scontate, come per esempio tutto il filone dell'economia comportamentale, dei limiti della razionalità, appunto, non solo sul terreno strettamente delle decisioni individuali, delle decisioni d'impresa, ma anche per poi i risvolti e le implicazioni macroeconomiche di queste visioni alternative. Ecco, e infine, in tutto questo, ebbe un ruolo molto importante Axel Leonoffud, che quindi vorrei anche utilizzare questa occasione per ricordarlo e anche per accostarlo a Jean Paul. Io credo che su questo mi rifaccio all'ultima cosa proprio che Axel ha scritto, con l'aiuto di Erlinde, la moglie, Axel Leonoffud è morto pochi giorni dopo Jean Paul, quindi credo, presumo che l'ultima cosa che ha scritto è stato proprio un ricordo di Jean Paul Fitoussi, che ci ha mandato tramite Erlinde, e che avrebbe voluto, la moglie, e che avrebbe voluto appunto che fosse ricordato in questa occasione. Allora, loro si sono conosciuti alla fine degli anni 70 a UCLA, a California, e dopodiché si sono ovviamente rivisti in Francia, quando già all'inizio degli anni 80 Fitoussi era alla Sorbona, e anche Leonoffud ha passato un periodo a Strasburgo, all'Università di Strasburgo, e quando poi Axel Leonoffud è venuto qui a Trento, sempre chiamato da Massimo Egidi, e ha voluto stringere un rapporto, diciamo anche organico, con Fitoussi, e mi ricordo la prima volta che venne, credo fu in occasione di un meeting dell'International Economic Association, se ricordo bene, doveva essere 96, 97, 97 probabilmente, e poi la nostra Università, l'Università di Trento, ha dato un titolo onorario a Jean-Paul Fitoussi, nella speranza poi di averlo anche proprio come nostro docente. Io ho ritrovato la motivazione per cui a Jean-Paul Fitoussi nel 2003 fu assegnato, è la motivazione in inglese, io ve la traduco almeno nelle linee principali, il titolo era di professore onorario della Bruno Kessler Chair, della cattedra Bruno Kessler, quindi professore onorario, e il riconoscimento del suo, perché credo che già nel 2003 alcuni tratti della personalità e del contributo di Jean-Paul fossero abbastanza chiari, ecco. Il riconoscimento del suo esempio di intellettuale impegnato, nel senso proprio dell'intellettuale angagé, di civil servant, di promotore di giustizia sociale, per l'alto valore scientifico del suo lavoro intellettuale e la profonda influenza del suo pensiero nello sviluppo di molti economisti, per il contributo imminente allo sviluppo della macroeconomia moderna e delle sue relazioni con le strutture microeconomiche, ricordando la sua partecipazione alle istituzioni internazionali di ricerca e ai consiglieri delle politiche, infine come segno di continuità della migliore tradizione franco-italiana dell'illuminismo che è alla radice dell'Europa moderna, l'Università di Trento, orgogliosa di nominare il professor Jean-Paul Fitoussi, professore onorario dell'Università di Trento. Professore, credo che queste parole siano una perfetta sintesi della personalità di Fitoussi. Io la ringrazio per questo suo ricordo. Bonatti, parlavamo di moneta fiscale, questo progetto a cui stavate lavorando. Ce lo racconto un po'? È un tema di forte attualità, comunque. È un tema assolutamente di attualità. In realtà è stato un po', appunto, come diceva il professore prima, l'innesco anche dell'organizzazione di questo panel, che poi si è rivolto chiaramente a una conformazione differente, vista la prematura scomparsa del professor Fitoussi. Io e Stefano Silo Slabini abbiamo conosciuto Fitoussi, in realtà non tantissimo tempo fa, nell'autunno dell'anno scorso, quindi abbiamo avuto un'interazione con lui che è durata qualcosa come sei mesi, che però è stata intensissima perché li abbiamo passati sostanzialmente su base pressoché quotidiana a telefonarci, scambiarci email, scambiarci whatsapp, perché il tema l'aveva progressivamente sempre più intrigato. L'aveva visto come un meccanismo potenzialmente molto interessante da capire nei dettagli, da affinare, eccetera, eccetera, per superare un problema di cui lui percepiva pienamente la gravità, cioè le disfunzioni pesantissime del sistema monetario europeo, dell'eurosistema, della moneta unica europea. Se ne è parlato tantissimo, ma il tema è assolutamente irrisolto. Le politiche d'austerità hanno portato in particolare l'Italia a una situazione di stagnazione e di pesante orientamento recessivo dell'economia che è partita soprattutto dopo la crisi dei debiti sovrani, quindi parliamo del 2011, che è andata avanti fino al 2019, fino alla pandemia, che avrebbe dovuto risolvere un problema che, ricordiamolo, è un problema che l'euro stesso ha creato, cioè quello dell'elevato livello di debito pubblico italiano, che però è un problema fondamentalmente perché è una moneta che non è garantita da un prestatore di ultima istanza. Cioè, nessuno pensa che la Federal Reserve americana lasci fallire il tesoro americano, nessuno pensa che possa succedere qualcosa del genere nel Regno Unito, che possa succedere qualcosa del genere nel Giappone, esiste la possibilità che un default del debito sovrano si verifichi invece in un Paese che emette debito in una moneta che non è emessa ad un istituto di emissione e che fa capo al Paese stesso. Per cui la proposta di moneta fiscale sostanzialmente introduce uno strumento che è una forma di titolo che è accettato dal governo dell'emittente in compensazione dei tasse future. Quindi non è soggetto a rimborso cash non deve essere pagato in una moneta straniera, una moneta non emessa allo Stato stesso e di conseguenza non è possibile che una situazione del mercato finanziario forzi il Paese emittente al default sulla moneta fiscale. Questo è il concetto fondamentale. Questo ovviamente non vuol dire che non esistano limiti all'emissione. Bisogna tenere conto di un vincolo che è quello che non si emetta così tanta quantità di titoli fiscali da renderli in pratica rischiosi o difficilmente utilizzabili nel loro utilizzo. Però teniamo conto che il settore pubblico italiano incassa qualcosa con 800 miliardi all'anno di tasse imposte e contributi sociali per cui gli spazi d'azione per gestire uno strumento di questo genere in maniera da mantenerne il valore fondamentalmente allineato a quello dell'euro in sostituzione del quale può essere utilizzato per i pagamenti fiscali sono molto ampi. Naturalmente c'è tutta una serie di tecnicismi che abbiamo approfondito, abbiamo posto al corrente di tutto il lavoro metodologico che era stato effettuato su questo tema e abbiamo recepito e sviluppato con lui contributi, critiche, suggerimenti su come affinare e presentare perché abbiamo riscontrato un alto livello di interesse. A livello europeo però potrebbe avere a livello europeo c'è un tema fondamentale che è un tema politico e di questo fiducio ovviamente era perfettamente conscio uno strumento di questo genere ridà autonomia di azione autonomia di politica economica agli Stati allora se andiamo verso un progetto di centralizzazione politica di integrazione politica tale per cui la sovranità viene completamente tolta agli Stati e passa ad un'istituzione centrale è chiaro che questo progetto va nella direzione opposta sappiamo bene che però il progetto di integrazione politica europea non so neanche se si possa definirlo in questo momento in mezzo al guado a me sembra che non lo stia decollando era quello che pensava anche lui mi ricordo un suo articolo che non parlava specificamente a moneta fiscale molto recente peraltro in cui diceva il problema dell'Unione Europea dell'Eurozone in particolare è quello di aver trasferito democrazia sostanzialmente di aver trasferito sovranità dagli Stati senza passarla di fatto nessun'altra istituzione democratica perché lui non vedeva l'Unione Europea in questo momento come un'istituzione democratica c'è un deficit di democrazia e questo è il punto fondamentale aggiungo anche un elemento sul concetto dell'inflazione è stato citato precedentemente Fidussi era estremamente conscio dei problemi che l'inflazione attuale pone che sono più pesanti rispetto ad altri contesti lui mi ha espresso più di una volta il concetto che l'inflazione di oggi in realtà colpisce in maniera estremamente differenziata le fasce rociali fa crescere i prezzi dei beni di prima necessità molto più di quelli dei beni di alto contenuto di costo di lusso eccetera eccetera il risultato è che molto banalmente i segmenti benestanti per non dire straricchi non se ne stanno praticamente quasi accorgendo mentre per le fasce sociali a basso livello di reddito di disponibilità patrimoniali il problema rischia veramente di diventare drammatico e tematiche tipo per esempio la riduzione del cuneo fiscale la riduzione dell'impatto delle accise degli oneri del sistema sul gas dell'iva sui beni di prima necessità se disponessimo in maniera piena compiuta di uno strumento come la moneta fiscale potrebbero essere gestiti in una maniera molto efficace con delle potenzialità veramente notevoli questo è un tema che lo appassionava e da cui il suo invito sostanzialmente a in questo seminario promuovere un momento di diffusione di questi concetti Sì lo Salabini anche lei aveva lavorato lavorava a questo tema della moneta fiscale insomma se ci vuole raccontare anche il suo punto di vista questo funziona sì con Marco abbiamo lavorato insieme e quindi Jean Paul ci chiamò all'inizio di novembre perché lui era molto incuriosito quindi questo già dimostra la curiosità intellettuale cioè di una persona che vuole sempre trovare nuovi argomenti di ricerca e nuovi spunti di lavoro e quindi fu e poi una persona io incontrai che cioè si poneva da pari a pari io effettivamente non sono un economista accademico cioè diciamo ciò un po' in famiglia ovviamente l'ho sempre respirata l'economia ma e con lui subito fui completamente a mio agio perché era una persona che comunque non esercitava nessuna e tra l'altro io fui molto contento di incontrarlo perché Jean Paul Fitoussi era stato uno dei promotori del manifesto contro la disoccupazione nell'Unione Europea che fu lanciato da Franco Modigliani nel 1998 questo è un tema che io ho seguito da vicino perché mio padre era in contatto continuo con Franco Modigliani e Jean Paul l'aveva condiviso pienamente una delle proposte fondamentali era la riforma dello statuto della Banca Centrale Europea che al pari della Federal Reserve doveva avere anche l'obiettivo dell'occupazione perché qui noi abbiamo comunque costruito una Banca Centrale Europea che ha solo l'obiettivo della lotta all'inflazione adesso qui se ne è parlato diciamo che se ci fosse stato anche quest'altro obiettivo nello statuto in questo momento diciamo avrebbe dato margini di manovra maggiori nella definizione delle politiche monetarie cioè noi adesso rischiamo perché l'economia europea è molto più debole e vulnerabile di quella americana quindi noi dobbiamo evitare questa corsa al rialzo dei tassi di interesse che rischia di mettersi in moto quindi questo era un argomento che Jean Paul Fitoussi aveva sposato diciamo circa 25 anni fa ed era stata una cosa importante quindi insomma per me era già una persona familiare e quando l'ho incontrato ci siamo subito trovati insomma si è creato una simpatia immediata con lui perché poi era una persona di una simpatia diciamo travolgente come da un punto di vista umano poi era pure molto rigoroso come economista perché voleva approfondire la moneta fiscale e mi sottopose a due ore di domande molto impegnative quindi era anche una persona in realtà molto rigorosa però poi era anche un divertimento parlare con lui nel senso che diventava comunque una cosa insomma è stata una conoscenza per me che è stata molto veramente preziosa questa qui con Jean Paul Fitoussi Cattaneo dal punto di vista strettamente umano di Fitoussi per chiudere a un aspetto che ci vuole raccontare sottolineare ma io l'ho trovata una persona al dia del suo rigore accademico in dubbio delle sue qualità che nessuno contesta estremamente empatico come del resto accennava Stefano e estremamente consapevole del fatto che il progetto europeo a cui credeva concettualmente rischia o ha già preso e va corretta di prendere una direzione sbagliata una direzione sbagliata perché il tema delle diseguaglianze è un tema che è strettamente connesso a come sono state impostate e definite le politiche di integrazione economica non c'è dubbio che l'euro per come è stato introdotto e per come è stato gestito è un meccanismo di amplificazione e crescita delle diseguaglianze all'interno del mondo europeo e le diagnosi le prognosi le ricette adottate hanno esasperato il problema invece di risolverlo perché poi all'ora dell'ora il concetto di garanzia comune incondimizionata e limitata dai debiti pubblici da parte dell'istituto di emissione nell'eurozona non c'è politicamente è assolutamente implausibile che per 30 40 50 anni venga introdotto le conseguenze sono quelle che sappiamo sono politiche che allargano i divari economici tra stati all'interno degli stati tra regioni tra classi sociali questo è un tema che lo preoccupava tantissimo e tutto il suo interesse al di là del fatto che forse gli siamo riusciti gradevoli o simpatici per la moneta fiscale e che ha visto qualcosa che poteva veramente essere la strada nella direzione corretta per riformare il sistema senza spaccarlo anche ovviamente per motivi tecnici e politici è un'impresa improba che non è quella che ci proponiamo ci proponiamo però di far funzionare qualcosa che era un meccanismo di crescita economica solidale condivisa che era quello a cui lui puntava e quello a cui aveva dedicato la sua attività di ricerca la sua attività di promozione la sua attività di comunicazione grazie grazie direi che abbiamo concluso quello che voglio dirvi che anch'io nella mia vita professionale per quanto breve sia stata rispetto alle vostre ho conosciuto fit to see l'ho conosciuto in maniera assolutamente superficiale rispetto a quanto avete fatto voi e io ringrazio tutti coloro che oggi sono stati qua sul palco perché mi hanno permesso di conoscerlo molto meglio e ne sono felice spero che sia stato lo stesso anche per chi ha assistito a questo dibattito e ringrazio ancora Niffi to see per la sua forza di essere qui oggi grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti